Oggi ragazzi continuiamo con la rubrica chiedi al folle rispondendo alla domanda di Alessandro che ci ha inviato una sua partita da analizzare, stiamo parlando di giocatori intorno ai 1500 punti elo quindi vedremo come analizzare le proprie partite per migliorare a scacchi. Tutto dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Danilo Distasio e questo è Follamente Scacchisti, il canale italiano di scacchi più folle che ci sia. Come vi ho detto nell'intro, oggi analizzeremo la partita del nostro Alessandro, del nostro amico folle che ci ha inviato proprio per cercare di capire come va analizzata la propria partita per capire quali sono stati gli errori quali sono stati i punti di forza, quindi dove e come migliorare. Come abbiamo già visto anche per lo studio delle aperture ci possiamo avvalere degli strumenti che ci mette a disposizione chess.com quindi partiamo subito con questa che è una schermata che a questo punto dovrebbe esservi familiare per lo studio delle aperture, se non avete visto il video vi rimando il link in descrizione e quindi vediamo la sfida tra Alessandro Bianco e il suo avversario quindi una partita che sarà giocata con una cadenza di 15 più 10 quindi comunque una cadenza che ci permette di calcolare diverse varianti e quindi una partita tutto sommato abbastanza seria. Vediamo com'è andata. E4, C5, cavallo F3, E6 come vedete mentre noi scorriamo le mosse il database di chess.com si aggiorna automaticamente con le partite dicendoci qual è la variante principale quante partite con quella variante sono state giocate e quali sono le relative percentuali di vittoria del bianco di patta e di vittoria del nero D4, quindi la linea principale cavallo per D4, cavallo F6 quindi diciamo con questa siciliana con E6 si crea un po' questo sistema solido che viene considerato tra i più solidi per il nero e quindi qui vediamo la continuazione principale che ha giocato Alessandro con cavallo C3 e A6 quindi una leggera deviazione da parte del nero che vuole impostare, non si è capito un sistema un po' omisso tra una Polsen e una Timanob insomma, perché come dice stesso il nostro database le linee principali qui sono due ovvero D6, quindi con una sorta di Scheveningen a questo punto oppure cavallo C6 quindi con una variante dei 4 cavalli e quindi qui sono poi tutti i capitoli di teorie a parte che uno dovrebbe diciamo conoscere proprio perché la siciliana è una delle aperture se no l'apertura con più varianti da studiare proprio perché ci sono più sistemi, più impianti più strutture pedonali quindi sicuramente un'apertura da conoscere per chi vuole migliorare quindi con A6 abbiamo visto già una prima deviazione da quelle che sono le linee principali vediamo che cosa cambia però da un punto di vista della struttura perché diciamo che l'idea di giocare A6 quindi deviando da quelle che sono le linee principali ci potrebbe permettere ad esempio già E5 che è una mossa buona che prende subito il controllo del centro e dello spazio attaccando il cavallo, quindi guadagnando un tempo e qui il cavallo ha due alternative o va in D5 e quindi si espone a una situazione del genere tipo il cavallo per D5 è per D5 donna F3 quindi con pressione su questo pedone che diventa debole quindi il nero avrà questi due pedoni doppiati isolati oppure cavallo G8 ma capite bene che questa è una situazione che non può assolutamente andare bene con il bianco che addirittura, perché poi il cavallo immaginiamo si dovrà sviluppare nuovamente in E7 quindi vedete qua il bianco ha 4, ben 4 pezzi sviluppati il nero soltanto 1 quindi questa è sicuramente una situazione che non può andare bene quindi questo già potrebbe essere una prima imprecisione da parte del nostro nero vediamo come ha giocato invece Alessandro Alessandro ha giocato più secondo gli schemi classici se vogliamo di sviluppo quindi comunque una mossa che non si può criticare Alfiere D3 si prepara all'arrocco e tutto sommato concede l'opportunità al nero di rimediare al suo errore quindi o con donna C7 o con D6 ad esempio che guarda caso sono le due principali continuazioni a questo punto per il nero Nero che sceglie D6 quindi rientra in una sorta di Scheveningen con A6 e qui praticamente arrocco quindi Alessandro fin qui tutto bene sta seguendo quelli che sono i principi generali dell'apertura quindi lo sviluppo l'arrocco e vediamo adesso come continuerà donna C7 quindi siamo rientrati in una sorta di schema più o meno conosciuto Alfiere E7 e qui l'altra grande deviazione che questa volta però prende Alessandro proprio perché abbiamo visto se guardiamo diamo un occhio qui in basso a destra che la continuazione principale è proprio Re H1 vi dico velocemente qual è l'idea di questa apertura ci sono tante belle partite anche di attacco ad esempio mi ricordo alcune partite di Ivanchuk che vince tipo in 20 mosse proprio con schemi simili dove l'idea è proprio quella di giocare con un forte attacco sull'ala di Re magari giocare anche G4 G5 F5 quindi appena abbiamo l'arrocco del nero parte questo attacco magari anche con E5 perché immaginate una situazione del genere si apre questa diagonale il cavallo è sotto attacco immaginate anche dopo presa presa ci può essere un sacrificio di torre in F6 con matto a seguire in H7 quindi ci sono un sacco di idee di attacco quindi la scelta di A4 in questo momento è chiaro è comunque una mossa utile perché cerca di contrastare un'eventuale espansione del nero sull'ala di donna quindi per evitare B5 alfiere B7 però comunque ci può essere una risposta del tipo B6 che comunque consente lo sviluppo dell'alfiere sulla diagonale maggiore e quindi come vedete appunto una continuazione potrebbe essere proprio questa con Re H1 cavallo Bd7 si cerca di rientrare un po' donna F3 nelle linee normali però qui comunque come potete vedere anche dalla percentuale di vittorie delle partite il nero non ha particolari problemi ok una volta finita quindi questa fase di apertura perché possiamo dire che dopo A4 siamo un po' usciti da quelle che sono le linee principali abbiamo consultato il nostro libro a questo punto diventa importante non utilizzare il motore quello lo faremo soltanto in un secondo momento ma cercare quindi di analizzare la partita vedendo da soli quelli che possono essere gli errori dove ci possono essere stati dei punti critici e soltanto in un secondo momento cercare di capire anche con l'aiuto del motore dove e come migliorare andiamo avanti quindi abbiamo detto A4 la risposta del nero è stata a Rocco quindi sostanzialmente la continuazione che ci potremmo aspettare in questo momento è magari anche una mossa del tipo donna F3 quindi con l'idea di continuare l'attacco la scelta di Alessandro invece è stata comunque una mossa buona alfiere D2 che sviluppa un altro pezzo e prepara magari anche l'entrata in gioco della torre donna B6 che tutto sommato è un'imprecisione perché è vero noi potevamo magari svilupparlo direttamente l'alfiere in E3 che è la sua posizione anche naturale perché copre questa diagonale ma con la mossa del testo quindi con donna B6 il nero ci dà l'occasione di rimediare alla piccola imprecisione che il bianco ha fatto chiaramente non ci dobbiamo mai preoccupare di questo pedone in B2 perché la donna va un po' a caccia di pedoni cosiddetti avvelenati dopo una mossa del tipo donna D2 vedete come la donna nera non ha praticamente molte case immaginiamo ad esempio una mossa qualsiasi torre B1 e la donna è intrappolata quindi è molto pericoloso andare a caccia di questo pedone quindi ottima in questo senso la risposta di Alessandro quindi a donna B6 alfiere E3 cavallo C6 alfiere E2 un altro tema tipico che mi viene in mente guardando questa questa diagonale è proprio questo cioè quando voi avete la possibilità di fare un attacco di scoperta generalmente è una risorsa tattica molto forte quindi qui immagino un'idea del tipo cavallo F5 che guadagna comunque un tempo sulla donna quindi la donna si deve spostare per l'attacco di scoperta dell'alfiere e qui cavallo per E7 donna per E7 togliendo uno dei principali se non il principale difensore della struttura del nero quindi qui il bianco avrebbe sicuramente un bel vantaggio con la coppia degli alfieri il centro lo spazio per portare anche l'altra torre in gioco quindi una posizione sicuramente superiore l'idea invece di Alessandro è stata giustamente quella di difendere il cavallo sotto attacco vediamo quindi come è continuata con E5 nuovamente chiaramente cavallo F5 poteva essere un'alternativa invece dopo D per E5 dopo F per E5 D per E5 cavallo F5 diventa meno forte perché comunque il centro del bianco si è indebolito questo adesso è un pedone isolato e quindi qui diciamo che il nero non sta male anche perché dopo Alfiere C5 c'è una certa pressione su questa diagonale quindi siamo costretti al cambio degli alfieri Re H1 torre D8 il nero si è sistemato prende il controllo della colonna la donna non può essere attaccata facilmente e quindi qui il nero sicuramente sta abbastanza bene se non forse addirittura un po' meglio rispetto al bianco mossa del testo giocata donna E1 personalmente magari avrei immaginato un'idea del tipo alfiere D3 più che altro anche per dare un po' di sostegno al pedone C2 a rinforzare un po' con la struttura su questa diagonale quindi anche in vista magari di una cattura in F5 e anche perché come abbiamo detto la donna magari potrebbe cercare un po' di controgioco in F3 quindi donna E1 si espone effettivamente a idee di attacco lungo la colonna D in particolare forse cavallo D4 subito è un'idea tatticamente errata perché c'è cavallo per G7 re per G7 donna G3 e sostanzialmente il pezzo si recupera ad esempio se re H8 si può sia catturare recuperando il materiale che giocare donna H4 sfruttando l'inchiudatura e attaccando ulteriormente il cavallo quindi anche quest'idea tattica andava considerata però nel momento in cui non si vede questa idea che chiaramente può essere anche cavallo F6 l'idea proprio per creare scusate per creare debolezze sull'arrocco avversario nel momento in cui non si riesce ad individuare quest'idea si gioca una mossa come torre D1 che può apparentemente sembrare una mossa buona il bianco si trova inesorabilmente in svantaggio perché il nero cattura come abbiamo detto in F5 quindi qui E per F5 e il nero può catturare il pedone C2 proprio perché la torre a questo punto è difesa donna sotto attacco dobbiamo spostare la donna donna H4 qui devo dire la verità il bianco si trova un po' in difficoltà un pedone in meno posizione dei pezzi tutto sommato buona ma chiaramente il nero si appresta a prendere spazio cioè questo cavallo che può tornare in D4 la torre che può venire in D4 quindi questo è un punto critico dello schieramento del bianco che però è sotto un forte controllo addirittura di 4 pezzi del nero quindi da un punto di vista strategico cavallo D4 è una mossa assolutamente giusta cavallo E4 cavallo per donna per e qui l'errore secondo me con cavallo per E2 del nero perché andiamo a scambiare un cavallo che tutto sommato è molto attivo un avamposto in D4 che è praticamente inamovibile l'idea strategica parlo semplicemente da un punto di vista strategico più giusta è giocare F6 quindi rinforzare la struttura pedonale con pedoni su casa scura e quindi non possono essere attaccati dall'alfiere e rafforzare quindi la posizione del nostro avamposto di cavallo in D4 chiaramente cavallo per E2 entra in questo finale di torri dove il nero comunque ha vantaggio perché ha un pedone in più quindi giustamente torre dietro al pedone magari spazio anche all'altra torre e si cerca di spingere il pedone passato H3 donna B4 e qui diciamo torre A1 che è una mossa che non mi convince per un motivo molto semplice che vi spiego subito abbiamo sempre detto che nei finali di torre o in generale nei finali di pezzi pesanti quello che conta di più è l'attività dei nostri pezzi quindi nel momento in cui andiamo entriamo in questi finali più che guardare al materiale in sé per sé bisogna guardare all'attività che hanno i propri pezzi quindi qui avrei cercato magari più un controgioco proprio per massimizzare a questo punto il pedone visto che il nostro avversario non ha spinto in F6 magari un'idea poteva essere giocare noi stessi F6 così chiaramente la presa è fuori discussione su G6 si creano comunque degli indebolimenti quindi magari ci potrebbero essere idee del genere donna E3 donna H6 e un eventuale matto ipoteticamente o addirittura anche giocare prima donna H5 così poi da rendere F6 alla mossa successiva ancora più forte quindi torre A1 come approccio anche mentale secondo me non è non è l'ideale un'alternativa forse poteva essere non lo so anche B3 perché così su donna per B3 magari l'idea torre B1 è vero che cediamo un altro pedone però magari dopo torre per B7 comunque questo è il concetto che vi voglio trasmettere abbiamo una certa attività con una torre in settima considerate nei finali di torri le torri devono cercare di raggiungere la settima traversa o la seconda chiaramente nel caso del nero torre A1 quindi una mossa un po' passiva F6 ottima risposta da parte del nero torre B1 anche questa mossa tutto sommato passiva voi avete in questo caso 10 punti 5 e 5 quindi che difendono 2 punti quindi 2 pedoni non è una cosa economicamente conveniente torre D8 qui il nero è chiaramente in vantaggio donne 1 con l'idea di cambiare le donne donne F4 donne F1 si arriva al cambio delle donne ma come abbiamo detto il nero qui riesce ad attivare molto bene le sue torri quindi con torre D2 torre A B1 vedete la passività delle torri del nostro Alessandro torre C8 B4 B4 torre CC2 quindi questa è la configurazione ideale dei pezzi delle torri nello specifico quando siete in un finale di torri quindi con entrambe le torri che dominano la settima traversa quindi anche in questo caso con idee di matto e qui forse un po' per diciamo la troppa passività o un po' per problemi di tempo c'è questo grave errore o grave svista di Alessandro che insomma concede il matto in uno che però il suo avversario non vede e qui subentra anche un po' una cosa psicologica che voglio dire anche ad Alessandro che è importante appunto non abbandonare ma giocare e combattere sempre fino all'ultimo perché da qui in poi guardate come cambia nel giro di poche mossa l'approccio del bianco alla posizione questa è una posizione vincente per il nero 99 volte su 100 il nero vince in questa posizione però guardate qui che succede nel giro di poche mossa il nero è come se perdesse un po' quell'iniziativa e quella attività che era riuscito a guadagnare nelle mosse precedenti quindi torre b3 torre c2 e qui b5 quindi il bianco inizia a cercare il suo controgioco la minaccia appunto è se prende torre per attacchiamo il pedone debole e c'ho anch'io l'attività dei miei pezzi a5 b6 fissando la debolezza e qui è il nero che inizia a perdere un po' qualche colpo torre a2 è una mossa che è vero attacca il pedone però chiaramente concede la colonna quindi con un eventuale ingresso in c7 al bianco torre b2 e qui guardate Alessandro non sembra lo stesso giocatore di prima ottime mosse torre b3 torre c3 torre c7 quindi come mossa intermedia scacco re g8 cambio e quindi qui adesso il materiale si è ristabilito ed è il bianco che ha un pedone passato se poi ci mettiamo l'errore finale del nero vediamo come Alessandro questa volta non lascia scampo e vince finalmente la partita quindi ragazzi come avete visto dopo quella quella svista con il matto in h2 che Alessandro ha concesso al proprio avversario si è in qualche modo trasformato e quindi ha iniziato a giocare per l'attività per l'iniziativa e i risultati nel giro di qualche mossa sono arrivati quindi quali sono gli insegnamenti che possiamo trarre da questa partita sicuramente l'importanza della tattica come diciamo sempre ai nostri livelli la tattica fa tutta la differenza quindi con idee come abbiamo visto cavallo f5 con l'attacco di scoperta sulla donna che poteva portare un grande vantaggio al bianco su cavallo d4 l'idea molto forte cavallo per g7 o anche cavallo h6 e poi qui l'importanza strategica di non nel finale di non giocare in maniera passiva quindi concedendo f6 ma di giocare a nostra volta dopo una mossa come appunto torre 8 h3 donna b4 non torre a1 ma o f6 o donna h5 quindi l'importanza di giocare per l'attività e poi qui il finale chiaramente evitando anche questo tipo di sviste dove si concede il matto in uno ok ragazzi spero che vi sia piaciuto alessandro spero di aver risposto alla tua domanda vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al nostro canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate sotto al video attivando la campana per tutte le notifiche e non perdere quindi nemmeno un aggiornamento ci vediamo quindi al prossimo video vi mando un forte abbraccio ciao ragazzi ciao